Buonasera a tutti, oggi voglio parlarvi di un articolo che è stato pubblicato nel generale del 1990 di Tutti i Fotografi. Un articolo che è vero che è del 1990, ma tocca argomenti attuali anche oggi, sia per la fotografia analogica, sia per la fotografia digitale e volendo espandere il discorso anche per l'intelligenza artificiale. Ora vi spiego tutto da dove nasce. Nel 1989 Maurizio Capobussi pubblicò un articolo sulla Canon EO 650, è una macchina che ho insieme alla 600, bellissima in verità, e lui che cosa sosteneva in questo articolo di progresso fotografico, su progresso fotografico? Diceva sostanzialmente, vabbè, dobbiamo fare un salto di mentalità, un cambio di mentalità, dobbiamo abbandonare la mentalità della vecchia macchina meccanica al limite a priorità di diaframmi, non autofocus, e abbracciare la possibilità di usare dei programmi e delegare sostanzialmente alla macchina fotografica tante cose, soprattutto per quanto riguarda l'esposizione e soprattutto per quanto riguarda la scelta della coppia a tempo diaframma. Bene, un lettore di Pescara lesse questa considerazione di Maurizio Capobussi e mandò una lettera allo stesso Maurizio Capobussi, dicendo sostanzialmente lui come la pensava in proposito. Che ha fatto Maurizio Capobussi? Non è che si è limitato a rispondergli nella posta di lettori, ma parlando di questa macchina fotografica, cioè la Minolta Dinax 5000i, ha pubblicato la lettera di questo lettore per intero e ha cercato di dargli una risposta. E questa cosa qua mi è piaciuta molto, cioè che lui abbia pubblicato completamente questa lettera. Guardate, dovete pensare che negli anni 90 c'è l'esplosione di queste macchine super elettroniche e la tendenza, soprattutto di certe riviste di fotografia, era di spingere verso queste macchine fotografiche super elettroniche, autofocus ovviamente. Ma Capobussi pubblicando la lettera di questo lettore, diciamo, fa esprimere anche un'altra opinione che era in contrasto con la tendenza che c'era in quegli anni. Ora vi voglio leggere questa lettera. Questa lettera in realtà credo che la pubblicherò sul giornalino del fotografo venuto dal passato, perché magari uno la può leggere proprio scritta, meglio ancora. Però visto che sto lavorando sul numero di febbraio 2025, capiteci, ho ancora un po' di tempo, ho preferito leggervela adesso in modo che anche voi possiate fare le vostre considerazioni. Voglio dire un'altra cosa per questa lettera di questo lettore che si chiama Stefano Marino. È molto simile alle lettere che scrivono, che mi scrivono i lettori del mio canale. C'è la loro esperienza con la fotografia e il loro rapporto con gli automatismi. E davvero mi ha colpito anche per questo, perché di lettere non uguali evidentemente, ma simili a questa, ne ricevo parecchie, ne ricevo parecchie. Mi ha colpito due volte questa lettera. Allora, noi abbiamo una lettera lunghissima, quindi ci mettiamo poco. Spero che non vi annoiate a questi pochi minuti. Comunque, trovo che quello che scriveva Stefano Marino era, dal mio punto di vista, molto corretto. Allora, scrive Maurizio Capobussi. Mi scrive un lettore, Stefano Marino di Pescara, e dice, ho iniziato a fotografare con una reflex meccanica, la Pentax K1000, poi con Nikon, poi con un Assemblad 500cm che posseggo tuttora. Con il tempo e i sacrifici, mi sono creato un'attrezzatura adatta a soddisfare diverse esigenze fotografiche. A parte gli imbarazzi su formati e penicole, ho sempre preferito i reflex meccaniche e manuali. Devo dire che usandole ho imparato a tenere tutto sotto controllo, ad esporre abbastanza bene, anche senza esposimetro, poi tra parentesi. Questo non vuol dire che le mie foto siano belle. Mi sono concesso l'automatismo della F3 perché in alcune occasioni ci vuole rapidità e non è stato uno scandalo. Mi hanno fatto provare ora la Canon EOS 600 e ho avuto impressioni che si ricollegano al suo articolo Canon EOS 600 sul progresso fotografico luglio-agosto 1989. I progressi tecnici hanno troppi contenuti positivi perché si possa ignorarli. Luminosità dei mirini, impugnabilità degli apparecchi, praticità di innumerevoli soluzioni che danno la possibilità di concentrarsi sull'immagine e poi dolcezza di scatto e trasporto della pellicola. Ad un certo punto dell'articolo lei tocca però il punto dolente della situazione, ciò che quelli come me non vogliono accettare, il salto di mentalità. Passi l'autofocus ma il programma ti esautera, perdi la sensazione di ciò che stai facendo. Penso sia una cattiva ginnastica quella di scattare senza più sapere la coppia tempi e diaframmi che si sta usando. Per questo forse il programma va usato ma con il contagocce. Sono contento di averle comunicato queste mie impressioni, che sono le stesse di molti fotografi, e voglio complimentarmi con lei perché in presenza di un'autorità del mercato ha saputo andare direttamente al nocciolo del problema. Io ho fatto il salto di mentalità solo parzialmente e intendo essere cauto in futuro. Concludo con una domanda alla quale non pretendo che lei mi risponda. Non utilizza il programma? Ti capito che scrive Stefano Marino e dice va bene l'autofocus e queste cose qua, ma il programma no. Diciamo il programma, se parlassimo andando più avanti nel tempo, il programma, le scene e ci proviamo ad aggiungere anche l'esposizione in multi zona collegata al programma evidentemente. Dice il programma no, perché quando è la macchina fotografica che fa tutto lei, ti imposta automaticamente tempi e diaframmi, smetti di pensare, smetti di pensare. Cioè sta dicendo la fotografia non è più una cosa tua, è una cosa che fa la macchina fotografica. Marizzo Capobusti ha pubblicato questa lettera e la prima risposta che dà riguarda proprio il fatto se lui lo usa il programma. Lui dice, beh sì, perché ci sono delle situazioni in cui, per esempio bambini che corrono, fatti improvvisi, il programma ti dà subito l'esposizione corretta. E questo riguarda pure un fotografo esperto come me, voleva dire. Poi, certo, quando però mi devo concentrare sulla fotografia, io il programma non lo uso. E parla un poco, fa un certo raffronto con il cambio delle automobili. Dice, il cambio automatico va bene, ma se ti vuoi divertire, usi il cambio manuale. E poi affronta più direttamente l'argomento che ha posto il lettore Stefano Marino e dice, a mio parere, torniamo al cambio automatico, occorre non sottovalutare il fatto che il traguardo da raggiungere non è soltanto quello di ottenere una corretta fotografia, anche se questo è indubbiamente un già notevole traguardo. Se così fosse, effettivamente basterebbe che l'abilità del fotografo fosse limitata al problema di scelta della giusta card di programmazione, cioè il giusto programma. Pensa infatti che molte belle foto sono scaturite da un'interpretazione personale delle regole. In solito l'uso è un grandangolare in macro, un mosso controllato, laddove di solito si chiedono foto esporte nitidissime e congelate. Ma forse l'abilità di domani sarà basata sulla capacità di scegliere non i valori di prosposizione, ma il programma più corretto che consente un certo risultato. E la rigidità del fotografo potrebbe essere usare un programma suggerito dal produttore. Ammesso, e qui sta il punto, che come fotocra abbia le idee chiare su ciò che vuole ottenere, rieccoci a noccio alla questione. Anche per usare gli automatismi si deve conoscere la fotografia, se si vuole essere creativi, naturalmente. Allora, cosa risponde Capobusti? Dice Capobusti, sì, il programma lo uso, però diciamo la verità, le macchine fotografiche già corretti allora ti permettevano di avere delle fotografie preconfezionate. E va bene, per carità, ma se la vuoi personalizzare, la fotografia, allora non devi necessariamente seguire quelle regole. E anche quando vuoi usare i programma, devi sapere come funzionano per poterli usare al meglio, quindi conoscere la fotografia. In conclusione Capobusti sta dicendo, anche un po' fra le righe, devi conoscere la fotografia. La macchina deve essere comunque in grado di usarla in manuale. E poi, se non vuoi avere quella fotografia standard, che sia sempre quella sostanzialmente, beh, mettici del tuo e vai oltre quello che ti offre la fotografia. E poi dice poi, magari in futuro scegliamo il programma, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che mi lascia un po' perplessa. Però dice una cosa giusta, pure quando scegli il programma più adatto, ebbene, devi sapere come funziona per certi risultati e per ottenere quello che volevi, alla fine. Trovo le riflessioni fatte in questo articolo molto, molto interessanti, soprattutto per quello che scrive Stefano Marino. La risposta di Capobusti mi ha convinto in parte, in verità. Devo dirvi che nel libro delle 15 reflex sotto le 50 euro, io spiego quali sono le caratteristiche rilevanti per una reflex, anche se costa meno di 50 euro. E tocco in realtà questo problema, in merito alle funzioni che ha una macchina fotografica, perché molte di quelle che consiglio sono autofocus. Sostanzialmente dico, sì, e qua non viene affrontata questa cosa, va bene che la macchina possa avere programma, esposizione in multizona, tutto quello che volete, ma l'importante è che abbia anche la possibilità di intervenire in manuale. Ma non basta solamente questo. Le macchine che ho scelto non solo consentono la possibilità di intervenire in manuale, ma lo fanno in maniera che uno in manuale ci possa intervenire facilmente, senza rompersi la testa. Questo stesso discorso vale anche per la fotografia digitale. Va bene, una macchina come questa ti offre tutti gli automatismi possibili, per esempio. Però se io voglio usarla in manuale, deve permettere che me lo faccia fare facilmente. E questa in particolare lo permette. Quindi, usare il programma sempre e comunque, o usare i multizona sempre e comunque collegati evidentemente ai programma, vuol dire non pensare quando si scattano le fotografie. Usarli in certe situazioni va bene. D'altro canto, se si vuole dare un tocco personale alla fotografia, sia per quanto riguarda l'esposizione, sia per quanto riguarda altri aspetti della fotografia stessa, beh, secondo me i programma e i multizona è meglio abbandonarli e passare a un'impostazione manuale. Solo così, dal mio punto di vista, si potrà dire di essere stato autore di una certa fotografia e non dire che in realtà l'autore è stata la macchina fotografica. Questo è quello che penso io. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.